... del desiderio del fratello in un'opera che cresceva velocemente e si stava dimostrando veramente utile alla gioventù bisognosa di aiuto. Ragazzi e bambini, però ricordatevi che se siete in questa bellissima scuola lo siete perché due persone, assieme Maria e Pietro Berna, assieme a San Luigi e Orione, hanno deciso di fare una grande avventura per questa città di Mestre che oggi è ancora qui e durerà, come ha detto Benedorno Oreste, per tanti altri secoli. La storia non è solo dei grandi, ma la storia è delle persone che si impegnano giornalmente e anche in prospettiva futura come Pietro e Maria Berna per garantire a chi viene dopo di noi un futuro migliore. Quindi credo che sia doveroso oggi essere orgogliosi di aver intitolato questa rotonda a Pietro e Maria Berna. E la responsabilità dell'orgoglio, ragazzi, ricade anche sulle vostre spalle. Ricordatevelo sempre. Dovete essere orgogliosi di essere qui, orgogliosi di essere coloro i quali portano la testimonianza di Pietro e Maria Berna nella storia. Grazie.